Allora, buon corso, buon workshop. Abbiamo voluto fortemente proprio questo workshop per fornire quelle informazioni importanti, poi basilari per tutti. Naturalmente qui parleremo di biodisponibilità, di assimilazione, di tecnologia. Parleremo anche di come possiamo migliorare nell'approccio clinico integrato. So che ci sono tanti medici, professionisti, nutrizionisti della salute che utilizzano nutraceutica integratori. Alcuni ci conoscono, ma magari mancano quelle nozioni importanti per utilizzarle al meglio, creare dei protocolli e magari personalizzare in un approccio clinico integrato quello che possiamo fare per migliorare la qualità della vita delle persone. Vi voglio ricordare questo appuntamento, il 28 marzo, per chi è interessato. Parleremo insieme alla società CFU, con la presidente che ci ospita, Barbara Susi, della Società Italiana di Fibromialgia. Ci sarà un collegamento il 28 marzo alle 20.45, proprio dove parleremo di epigenetica e fibromialgia. Quindi ringrazio fin da ora CFU Italia e questo invito anche nella mia persona, insieme al dottor Garitano, che proprio io farò un intervento tecnico. D'altronde, come questa sera, farò un intervento tecnico proprio su queste tematiche. Vi invito per chiunque sia di Roma a questo workshop su modulazione epigenetica dell'invecchiamento. Lo faremo sempre insieme a Mauro Miceli e il dottor Enrico Bevacqua. All'UPainu, che ci sarà un congresso sull'ingresso gratuito, tra l'altro iscrizione obbligatoria, tra questo meraviglioso evento del congresso di medicina estetica organizzato dal professor Ripa a Roma, 5-6 aprile. Vi ricordo i due appuntamenti della scuola di alta formazione, 13-14 aprile, per chi è interessato. Veramente una scuola di alta formazione veramente importante. Per chi è interessato poi può farne richiesta, mandare email, chiedere come si può partecipare. E poi questo evento, sabato 11-12 maggio, che noi abbiamo offerto in più alla scuola di alta formazione, che è veramente aperto a tutti e accessibile al 50% per tutti. Quindi, se volete informarvi, questo è un evento con il dottor Agnoletti, Massimo Spattini, Monica Greco, Marco Stento, Maro Miceli, Katia Wulf, Bartolomeo Allegrini, è un evento veramente straordinario. E poi faremo partire un progetto, questo messaggio che mi è piaciuto tantissimo, messo a punto da Guido Marini e Monica Greco, insomma anche Bartolomeo Allegrini. Proponiamo un corso formativo unico per medici che desiderano proprio fare la differenza nell'ambito dell'approccio clinico diagnosco e terapeutico. Quindi faremo una domenica mattina per presentare questo progetto, rivolto solo ai medici, perché naturalmente la diagnosi è prettamente dominio e interesse del medico, e quindi solo per i medici chi è interessato. Qui vedete le mail. Scuola di alta formazione, ed eccoci a questo workshop importante, dove parleremo di tecnologia, quindi della tecnologia Medis, e poi ce ne parlerà ampiamente il professor Miceli, parlerà proprio di questa tecnologia straordinaria, unica al mondo, messa a punto in Norvegia, e proprio parleremo di come queste piante poi sono estratte, pensate che stanno al sole 24 ore al giorno, per far maturare e poi poter essere utilizzati nella nutraceutica. Abbiamo parlato di biodisponibilità, abbiamo parlato di assimilazioni, alcuni di voi fanno utilizzo di self-food, pensate che quest'anno festeggeremo i 25 anni, siete tutti invitati, tra virgolette, ognuno poi si paga il suo pranzo, perché siete tanti, oltre 600 posti abbiamo prenotato a Bologna il 7-8 settembre, quindi festeggeremo i 25 anni di self-food. Allora, partiamo da questo presupposto, è vero che noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno, questo ormai è un mantra che noi cerchiamo di trasmettere a tutte quelle persone che si occupano di salute. Purtroppo questo, la fisiologia, la fisiopatologia, da sempre poi viene dimenticata quando in un approccio clinico integrato e magari viene visto più il sintomo e cosa dare, come curare questo sintomo. Noi dovremmo anche incominciare a parlare di reali rischi congeniti, parlare di cause, con cause e uno di questi aspetti fondamentali, come sapete, è la medicina mitocondriale. La possibilità della, il dottor Bartolomeo Legrini la chiama, medicina di regolazione, ma soprattutto quanto sia fondamentale apportare il giusto apporto di ossigeno e idrogeno a livello cellulare e mitocondriale per produrre energia ATP indispensabile per la vita. Quindi dovremmo lavorare, prima di parlare di qualsiasi nutraceutico integratore, dovremmo parlare di mesenchima, tessuto connettivo, di mitocondri, di apporto di ossigeno, perché l'ossigeno è l'unica cosa importante per la nostra vita e la nostra salute. Se voi pensate quanto sia fondamentale, questo, perché? Perché siamo 100.000 miliardi di cellule, qualcuno dico 50.000, insomma siamo tante cellule. Quindi occuparci della salute delle cellule è indispensabile e partire dal presupposto che se non abbiamo la corretta ossigenazione, non utilizziamo l'ossigeno perché i mitocondri hanno un problema magari congenito, come sapete, in linea materna, c'è un problema anche proprio legato all'utilizzo dell'ossigeno che poi si trasforma in eccesso di radicali lì. Quindi dobbiamo incominciare a parlare di mitocondri, perché è lì che noi gestiamo la longevità. Come dovremmo incominciare a parlare di mitocondri per la prevenzione delle malattie croniche, degenerative? Beh, è il mitocondrio che è in grado di proteggere queste situazioni. Ormai la ricerca scientifica è immensa su questo aspetto, come è immenso il fatto dei mitocondri per la prevenzione dei danni da tossine ambientali. Ma cosa effettivamente lavora sui mitocondri? Dare un nutraceutico è una cosa, assimilare quel nutraceutico è tutta un'altra cosa. Ne parleremo questa sera di malattie mitocondriali che influenzano il microbiota. Ecco, a questo ne sento parlare pochissimo. Eppure, ereditando per via materna il DNA mitocondriale, questo è legato poi alle malattie correlate, proprio influenzano il microbiota intestinale. Quindi, ancora una volta, mitocondri. I mitocondri legati a tutte le malattie, come abbiamo già ribadito la scorsa volta, il discorso dello stile di vita, ottimo, ma pensate oggi all'ambiente. Chi è che può cambiare l'ambiente di casa, città e lavoro? È difficilissimo, perché chi abita a Milano e vive a Milano, lavora a Milano, poi come fa a cambiare l'ambiente? Come fa a migliorare la qualità dell'aria che respira o dell'ambiente in cui vive? Ormai l'impatto ambientale, passatevi dei termini forti, ma è devastante, condiziona pesantemente la salute nostra delle future generazioni. Basti pensare che tutte le malattie iniziano a livello cellulare, ma se vi faccio una domanda, quanto avete sentito parlare di inquinamento, dice beh, adesso ce lo stai dicendo, lo sappiamo, ma se poi vi faccio la domanda di cosa fate voi ogni giorno per risolvere i problemi legati all'inquinamento, vi assicuro che la risposta non c'è, perché o lavoriamo su aumentare le difese immunitarie, oppure l'aria che respiriamo è sempre quella, è sempre più inquinata. Il cibo che mangiamo è sempre più inquinato. Basti pensare ai danni a bisfenolo A, che ancora magari abbiamo in tutte le plastiche che ci troviamo in giro, e chissà in tutte quelle plastiche che arrivano dall'estero, e eccetera. Pensate, ancora oggi incominciamo a solo avere, a vedere la punta dell'iceberg, del vero corpo, dove l'epigenetica ormai è la chiave di tutto, è la riprogrammazione o sprogrammazione della vita già a livello fetale. dovremmo incominciare a parlare di nutraceutica a scopo predittivo, preventivo, di supporto, soprattutto per la salute dei padri, delle madri, prima del concepimento. Ma se non c'è ancora la consapevolezza del fatto che, a parte l'inquinamento, ma quello che noi facciamo ogni giorno, da danneggiare la nostra salute e quella delle future generazioni, capite, non usciamo. Non c'è un'educazione nelle scuole. E allora ecco perché mi sforzo e mi impegno nel divulgare questa possibilità veramente di intervenire. Conosci gli indicatori epigenetici per capire cosa fare, quale vitamine hanno bisogno, quali vitamine minerali, antiossidanti, basti pensare, e neonutrienti. Basti pensare che questi sono molecole di segnale importantissime che poi creano una programmazione della nostra vita o sprogrammazione della nostra vita. Quindi dalla genetica all'epigenetica. Noi abbiamo questa guida importante per chi è interessato, questa la diamo ai tutti i centri S-Drive, una guida all'alimentazione funzionale, dove diciamo, bene, ma se c'è un fabbisogno di vitamine e minerali, da dove le assumi queste vitamine, minerali, amminoacidi se c'è un fabbisogno giornaliero? Da dove? Ormai lo sappiamo. Abbiamo bisogno di vitamine per l'uomo, per la donna, per i bambini, gli adolescenti, per la crescita, l'allattamento, per le infezioni. Abbiamo bisogno di questi supporti. Quindi abbiamo un fabbisogno giornaliero. Se non le assumi, le consumi e poi non ce l'hai più il giorno dopo. Quindi è un problema, anche questo. se ne parla pochissimo. Come si parla pochissimo della differenza e del ruolo di ogni vitamina, delle funzioni, dei sintomi da carenza e dove si trovano, come i minerali, gli acidi grassi essenziali. Non si può parlare solo di Omega 3. Abbiamo Omega 6, abbiamo l'acido linoleico, abbiamo il gamma linoleico. e cosa stiamo facendo effettivamente per entrare in queste varie problematiche, come il sistema antiossidante, il sistema gastrointestinale, quindi intervenire nella candidosi, nelle virosi, nelle poste virosi. e quanto è importante, come vi anticipavo prima, intervenire sull'impatto ambientale. Questa è la nuova pandemia. Sostanze chimiche, idrocarburi, radiazioni, metalli tossici. Cosa stiamo facendo per evitare questo? Nei cibi che mangiamo, nell'acqua che beviamo, nell'aria che respiriamo. Basti pensare ai danni da campi elettromagnetici. Oggi sono a vera e propria pandemia, anche questa. Eppure dormiamo col cellulare, con wifi, viviamo sempre connessi. E poi la rimetilazione del DNA, ne abbiamo parlato la scorsa volta. Questa è solo un'introduzione, è un bignami di quello in cui abbiamo parlato la scorsa volta, di tutto il discorso della carenza, oppure dei danni, a livello della metilazione, della rimetilazione del DNA, da questi fattori, che accorciano i telomeri già nella pancia della mamma, insieme ai distruttori endocrini, alle sostanze chimiche. Basti pensare, come vedete, al fumo di tabacco. Guardate, e queste tossine che noi assimiliamo durante la vita, noi le lasciamo nel feto e nel latte anche a distanza di anni. È questo il grosso problema. E sprogramma la vita già nella pancia della mamma. Pensate quanto abbiamo fumato negli ristoranti, negli aerei, negli ospedali, c'è stato bisogno della sanità senza fumo per togliere il fumo dagli ospedali. Mi ricordo vent'anni fa il professor Vernizzi, il professor Boffi dell'Istituto Tumore di Milano, queste iniziative, per dire che non si doveva fumare gli ospedali. Capite? Cioè, veramente, è un problema. Quindi, le carenze legate all'omocisteina, il ruolo delle vitamine per abbassare l'omocisteina, tutti questi fattori che poi fanno aumentare lo stress nitrossativo e ossidativo, quindi danni ai mitocondri, ancora infiammazione e malattia. E allora siamo abituati a caricare le batterie dei cellulari. Noi dobbiamo caricare le batterie dei nostri mitocondri, delle nostre cellule. Ecco l'epigenetica, il ruolo dell'epigenetica, il ruolo dell'ossigeno, il ruolo del controllo delle varie forme di ipossia, della produzione di ATP e dell'evitare i danni tessuti, ma anche dell'ischemia di riperfusione, come abbiamo visto la scorsa volta, sul ruolo dell'ossigeno, sui premi Nobel del 2019, sull'importanza dell'ossigeno per la nostra salute. Ma non possiamo pensare di avere l'ossigeno solo quando siamo in fin di vita. Dobbiamo incominciare a parlare finalmente, ancora finalmente, ritornare a parlare del ruolo della respirazione e della nutrizione per produrre energia ATP con cellule e mitocondri sani. Una causa determinata proprio è questa, per il fatto dello stress ossidativo legato all'ipossia, Guiton, oppure l'effetto Varbo, ne abbiamo parlato tantissimo, ne parliamo ai nostri corsi, nelle nostre scuole. Siamo abituati a fare queste terapie, ma queste sono terapie di emergenza e spesso aumentano i radicali liberi, come ha dimostrato questo studio importante con il gruppo di Benedetti Canestrari. Allora ecco, il ruolo di Selfood, ve l'ho parlato tante volte, è uno dei prodotti più importanti al mondo, con tutta questa ricerca scientifica pubblicata che ha dimostrato che questo nutraceutico è un modulatore fisiologico dell'ossigeno non devante. Quindi oggi abbiamo bisogno di modulatori, di altissima biodisponibilità, assimilazione. come sapete, per chi non era presente la scorsa volta, è un prodotto che è sul mercato dal 1969, che ha quest'anno, facciamo, i 55 anni. Tutti, ecco, a Bologna, il 7 e 8 settembre. Segnatevi questa data perché sarà una data storica. è una formula di questo grandissimo che è Everett Story che è in grado proprio di modulare l'ossigenazione con un'azione antiossidante. Quindi, vado molto veloce nel senso che, già alcuni di voi sanno che è una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano, che è un pass, determinato un pass per il benessere perché è un pull antiossidante sinergico e sistemico e che ha la capacità di aumentare l'ossigenazione mentre fa un'azione antiossidante. E questo ci permette di avere una formulazione colloidale ad altissima biodisponibilità a assimilazione in grado di essere assimilato, pensate, in 0,64 secondi. Quindi è un colloid e voi mettete le gocce nell'acqua, lo bevete in 0,64 nel sangue e con un'azione di supporto, quindi di modulatore di ossigeno a livello mitocondriale e cerebrale e questa capacità, come vedete, i dati, questi numeri 3,65 meno 22, 66, significa che questo nutraceutico è considerato un colloide simile a sangue o linfa e quindi viene assimilato a livello sublinguale o spray. Vedete che le spray o sublinguali sono da preferire qualsiasi altra forma di somministrazione perché a livello mucosale e perlinguale arriva direttamente attraverso la vena cava nel sangue. Naturalmente con tutte le certificazioni addirittura ha il DL50 cioè assolutamente privo di tossicità se ne può avere anche 500 grammi quindi pensate anche questo è una sicurezza importante per chi lo consiglia lo prescrive e lo assume naturalmente è indicato in moltissime situazioni che è interessato poi dalla stanchezza ai mitocondri sul porto disintossicazione e lavora sul terreno quindi lavora sulla matrice lavora sull'aumento della biodisponibilità e la compliance e soprattutto l'efficacia di qualsiasi trattamento che volete fare da un punto di vista di protocollo poi qualsiasi medico utilizza il prodotto migliore per il suo paziente quello che ci vuole però questo prodotto il self-food permette proprio di lavorare sul mesenchima sul tessuto connettivo con questa capacità antiossidante gli studi scientifici lo hanno dimostrato e lo abbiamo visto la scorsa volta soprattutto sulla protezione endoteliale guardate prima e dopo le cellule cosa riesce a fare questo prodotto ed ecco che i lavori scientifici dicono questo cioè prevenzione cardiovascolare sulla carenza di ossigeno la produzione di ATP negli sportivi gli sportivi è un prodotto che viene utilizzato da grossi atleti a livello mondiale all'olimpiadi e campionati del mondo dai ciclisti ai maratoneti e guardate questi sono gli studi frequenza cardiaca colsente respiratorio aumento dell'emoglobina riduzione dell'acido lattico addirittura studi sui ciclisti addirittura in Sudafrica è prescritto e rimborsato dallo Stato in Italia impossibile però per dirvi quanta qualità c'è dentro un prodotto che poi addirittura entra nel rimborso farmaceutico in alcuni paesi qui in Sudafrica quindi questo è un libro per chi è interessato abbiamo un libro dove ci sono tutti i lavori scientifici abbiamo fatto anche lavori sulle sclerosi multipla e le patologie neurodesenerative prima su 39 pazienti poi addirittura su 240 pazienti e hanno dimostrato lo stesso lavoro quindi sul bilancio ossidativo sulla fibromialgia abbiamo avuto una riduzione della stanchezza condiziana fino al 42% e poi eccoci qua insomma questo è il self food qualcuno di voi lo conosce un grande prodotto io penso che sia uno dei più importanti prodotti al mondo e vi assicuro che pochissimi prodotti al mondo hanno questa ricerca scientifica pubblicata in grado di fare quello che fa questo prodotto per le cellule per i mitocondri e poi la biodisponibilità l'assimilazione la via sublinguale c'è questa linea importanti pensate parlavamo la scorsa volta del diet switch carnitina citrina k per aumentare il metabolismo ma il silicio colloidale per le osteoponie osteoporosi il metisulfonilmetano per l'infiammazione il SAM è una molecola trasversale tante reazioni metaboliche ma è un antidepressivo un decorante epatico è la molecola principale per la rimelezione del dna insieme a acido folico metionina scusate b12 b6 è un prodotto veramente fondamentale multivitamini con spray sublinguale vitamina c poi per chi è interessato abbiamo anche i suggerimenti dei vari protocolli che possono essere messi insieme vi vi do questa notizia siamo entrati in un progetto importante sul segreto della longevità un test epigenetico con l'università di Sassari quindi proprio che stanno utilizzando il nostro sistema S-Drive addirittura è stato presentato in un progetto i medici di famiglia questa tecnologia per mappare i fattori di rischio determinanti socio-economici alterazioni epigenetiche dell'ambiente quindi il presidente proprio di questo questo progetto ci ha coinvolto per utilizzare questo sistema sui pazienti dei medici di famiglia quindi insomma è qualcosa che ci dà grande soddisfazione perché ci permette di veicolare un report che in pochissimi minuti ci permette grazie a questa tecnologia di promuovere la buona salute promuovere un sano stile di vita motivare incoraggiare sostenere raggiuntamente gli obiettivi di salute e benessere ci basta ed avanza ma soprattutto dobbiamo dire che la diagnosi la fa il medico e quindi è fondamentale capire che nessuno dispositivo può fare diagnosi diagnosi la fa il medico vi invito ancora una volta questa serata del 28 marzo a questo workshop del 5-6 aprile per chi è di Roma e le nostre giornate di formazione della scuola di alta formazione 13-14 aprile 11-12 maggio perché abbiamo una scuola importante che da 5 anni sta cercando di condividere questa possibilità di formazione di colmare quel gap tra la formazione universitaria e la pratica clinica e penso che stiamo cominciando ad avere grandi soddisfazioni vi lascio con questo messaggio che è tutto bello quello che facciamo basta che lo facciamo con passione amore responsabilità ma soprattutto dovremmo pensare a una cosa alle future generazioni e per pensare a future generazioni dobbiamo unire le forze non dobbiamo competere dobbiamo assolutamente creare un'alleanza per fare la differenza perché la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino grazie veramente di cuore a tutti qui avete tutti i riferimenti ringrazio Arnica Ingros una persona di Andrea Rizzi e tutti i suoi collaboratori e qui info.arnica.it perché come sapete il self-food lo potete avere tramite lui e quelli sono i nostri siti per qualsiasi cosa insomma rimango a disposizione grazie veramente di cuore e E...